Primo avvicendamento all'orizzonte nella giunta targata Roberto Materia. L'assessore Natale Munafor ha assegnato ieri le sue dimissioni al primo cittadino motivandole con una scelta personale scaturita dalle difficoltà nel conciliare gli impegni istituzionali con quelli familiari. Munafor rimarrà comunque nell'antourage del sindaco e ricoprirà presto un ruolo di esperto dell'amministrazione comunale. Già oggi si potrebbe conoscere il nome del suo sostituto. Il nome più accreditato è quello di Angelo Paride Pino, eletto in consiglio comunale tra le file di Forza Barcellona Pozzo di Gotto. L'ex presidente del civico consesso di Palazzo Longano rinuncerebbe a questo punto al suo posto in aula lasciando spazio così al primo dei non eletti, ovvero Carmelo Giunta. La scelta personale di Natale Munafor non convince tuttavia l'opposizione vicina all'ex sindaco Maria Teresa Collica che ha ricordato come le dimissioni e la sostituzione dell'ormai ex assessore rappresentino il terzo cambio rispetto agli assessori designati in campagna elettorale. Come si ricorderà, al momento dell'insediamento, i nomi di Katia Marabello e Angelina Benvegna furono sostituiti da Gianluca Sidoti e Angelo Coppolino. Secondo Antonio Dario Mamidi, avanti con fiducia, designare tre assessori e poi sostituirli nel giro di due mesi significa prendere in giro gli elettori. A questo punto non rimane che attendere l'ufficialità sul nome che completerà la squadra del sindaco Materia.